Ed è ad essi vero che tramite la padronanza della lingua si ottiene pur tuttavia un aumento della potenzialità del pensiero, cioè più siamo evoluti filologicamente e più il pensiero arriva in profondità. Quindi è auspicabile un'espansione dei livelli culturali in ascesa per migliorare la qualità stessa dell'umanità. Purtuttavia se un pensiero è più elaborato, aiutato dalle parole, può arrivare direttamente a diventare azione, è un'azione maieutica e ben fatta. Così la maieutica, la capacità di fare estrarre alle persone il lato migliore. La filologia, lo studio delle parole vengono in nostro aiuto in questo compito immenso. Ne avremo ora la controprova, giustamente, ascoltando direttamente una trefonata da una persona che spero confermi l'utilità di questa mia lezione. Potete regia passare la linea. Pronto? Ci sei? Pronto, mi chiamo Pino. Posso parlare? Sì, certo. Vuoi parlare? Sì, sono Pino. Volevo dire una cosa. Bene. Che cosa vuoi dirvi? Sì, io ho già uscito la roba invernale, poi sono uscito con il mio amo, siamo andati a parcheggiare il papero e ho fatto appugni con uno che mi ha fregato il parcheggio, l'ho sminchiato. Poi ho pisciato il cane e mi sono incazzato nel banchino. Mi sa che qualcosa non ha funzionato. No, perché mi dava fastidio. Grazie mille e prego cento.